Ma amo viaggiare ovunque perché in ogni posto ci sono dei cibi che hanno delle storie divertenti e interessanti che vale appena raccontare. Pensate anche la ricetta della torta della mamma che vi piace tanto, se voi la rifate a casa viene diversa. Perché? Perché è giusto che sia più buona quella di vostra mamma, perché è un ricordo che fa di voi quello che siete alla fine, perché il cibo è quello che noi siamo. A casa mia coltivano gli asparagi, perciò io in quel posto ho disegnato gli asparagi, perché sono identità del territorio. Perciò comunque ognuno di noi ha il dovere di posare i propri piedi sulle spalle di chi c'era prima e dare una mano a quelli dopo per far sì che funzioni tutto. A casa mia coltivano gli asparagi, perciò io in quel posto ho disegnato gli asparagi. A casa mia coltivano gli asparagi, perciò io in quel posto ho disegnato gli asparagi. A casa mia coltivano gli asparagi, perciò io in quel posto ho disegnato gli asparagi. Grazie a tutti.